Ma che... oh no! Ma che è successo? Che sta succedendo? Vabbè, quello è andato a amminare un cinghiale. Vabbè, quello è andato a amminare un cinghiale. Per l'assassimo critico... Ecco il mercenario. Ecco il maledetto mercenario. Non volevo però fargli fare questa fine. Ok. Ma... Oh, niente, non c'è il prompt. Ok. Che... Cosa? 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 Non l'ho probabilmente consumata l'adrenalina, anzi l'ho guadagnata. Un mercenio del cavolo se non si allontana, veramente? Un mercenio del cavolo se non si allontana. 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 Un mercenio del cavolo. Un mercenio del cavolo se non si allontana. 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 Grazie a tutti.